Le api non fanno parte del mondo, le api sorreggono il mondo. E' stato approvato nei giorni scorsi dall'Aggiunta Comunale di Cava di Tieteni l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Diverse le novità che hanno costretto l'amministrazione comunale a dover mettere mano al documento di programmazione già approvato nei mesi scorsi. Nell'annualità 2025 è stato inserito il progetto relativo alla riqualificazione messa in sicurezza dell'ex strada statale 18, nel tratto compreso tra Via Spinetti e Viale Riccardo Romano, appalto che ha ottenuto un finanziamento per un importo complessivo di 3 milioni di euro. Inoltre, sempre per l'annualità 2025, è stato inserito il progetto che riguarda il completamento della pista ciclabile in Viale Marconi, intervento che ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro. Cancellato dall'annualità 2024, l'intervento relativo alla messa in sicurezza, adeguamento sismico edile ed impiantistico, della palestra della scuola Simonetta Lamberti di Pregiato, poiché il finanziamento non è stato ancora concesso a causa dell'inagibilità dell'istituto a cui la palestra è annessa. Slitta, invece, dal 2024 al 2025, l'intervento che riguarda la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale via Antonio Gramsci, in quanto, in un primo momento, il finanziamento non era andato a buon fine, a causa del lungo e complesso iter di approvazione dello stesso. L'amministrazione comunale, però, ha chiesto di ottenuto nuovamente il finanziamento nell'ambito dei fondi PNRR. Dalla delibera approvata nei giorni scorsi, inoltre, si legge che è stata inserita, nell'annualità 2024, la realizzazione di una rotatoria stra via Pasquale Santorillo e via Arte e Mestieri, per un importo complessivo di 400 mila euro. L'intervento è interamente finanziato dal Consorzio ASI.